Anche utilizzando poche parole, pochissimi diarvi, veramente rappresenta, da concretizza, diciamo, un sentimento molto molto difficile da riprodurre al cinema che quello della solitudine. Abbiamo visto veramente un personaggio perduto, senza riferimenti e veramente spaventato. E' stato veramente un grande lavoro, anche da tua parte, di costruzione non solo del personaggio ma degli spazi per riuscire a ottenere un effetto così fisico, anche quello di tutti gli spettatori. Ti ringrazio per questo, è un bel attore, chiaramente il film è un lavoro collettivo, quindi sono una comunione di esperienze e di professionalità che poi portano questi risultati che tu hai descritto. Quindi, attore che ha recitato in maniera, secondo me, eccezionale, si è calato nella parte, ha un viso estremamente interessante, insomma, estremamente credibile in queste emozioni che volevo andare a descrivere. Poi, insomma, la fotografia di Daniele Trani impeccabile e la forza, insomma, di Omar e di tutti quanti hanno reso possibile questa operazione, ripeto, complessa, trattandosi proprio di una forma indipendente di espressione produttiva. Allora, approfittiamo per darvi la notizia che questa sera abbiamo vinto il Festival di Ravenna, il Nightmare. Ci hanno dato un nuovo attenzione. Per assicurare anche tutti gli altri posso dire che il cane sta bene. E' stato salvato, prontamente salvato, chiedo scusa anche per l'interruzione, però, insomma, era un meritabile, insomma, perché adesso il cane sta bene. Siamo tutti più felici. Non lo so se anche Daniele, insomma, scuola. Ah, c'è una mano. Ah, finalmente. Il camper. Il camper era il mio camper, che avevo preso proprio per andare a farmi dei giri. E, parliamo di dire, sì, ma è un caso, però, insomma, era quasi una premonizione rispetto a quello che andavo a raccontare. Sì, no, comunque è andato sì, è scomparso, poi, effettivamente l'ho venduto per rientrare un po' nelle spese, non sto scherzando. Però, effettivamente, sì, era un camper, era un camperino personale. Ma il camper, nella storia, insomma, era, no, non era affatto nessuna fine, cioè nel senso che non c'è più. Poi, alla fine, avessi avuto la possibilità di farlo vedere precipitare da qualche parte, forse sarebbe stato più plausibile, ma, insomma, quando vai descrivendo questo genere di storie, il fatto che comunque non ci sia più, poi, alla fine, non mi interessava dare grosse spiegazioni a questo, mi interessava, insomma, far capire che il personaggio era a piedi, non aveva più la sua sicurezza di questo guscio di lamiera che gli garantiva una sorta di protezione che si trovava poi a vivere, a calarsi pian piano nella realtà di questo paese fantasma. Sì, non mi interessava molto dare una spiegazione logica al fatto che non trovi più camper, anche poi di logica non c'è più nulla, poi, alla fine, a un certo punto. Oltre al quale ci si può permettere di tutto. È possibile che la morte aggiuntiva dei volontari abbia tolto forza simbolica la morte del protagonista? Ma era una sorta di proseguo. Morte simbolica del protagonista che comunque continua anche nella realtà, descritta da un punto di vista più realistico, perché la fotografia era completamente diversa, quindi comunque tu vada in questo paese, comunque tu oltre ai passi in guado, comunque tu raggiunga queste mura, sia dal punto di vista della fantasia del percorso dell'attore, che dal punto di vista un po' più realistico della ricerca della protezione civile, comunque la fine che fai è sempre quella e la maledizione di queste gemelle continua ad essere evocata, comunque tutti presenti in questo paese. Allora, per trovare il posto, intanto abbiamo girato parecchi paesi, tra virgolette fantasma, che poi di questi abbandonati effettivamente non ce ne sono, ci sono tanti paesi lasciati a se stessi, ma che comunque vengono in parte ristrutturati dai padroni, dai proprietari delle case. Per esempio, quello comunque è abituato a ricevere gente, perché in questo paese annualmente si svolge una manifestazione culturale creata proprio, organizzata dalla stessa associazione culturale che ci ha permesso di girare nel paese, che richiama artisti da tutto il mondo, fanno concerti, manifestazioni, video installazioni, così via dicendo, quindi il paese con chiaramente le varie reazioni diverse da parte di chi è più o meno criptico ad accettare questo genere di stimoli esterni, è comunque abituato, e quindi non abbiamo ricevuto, anzi, cioè grande accoglienza. Poi noi abbiamo girato nella parte più, tra virgolette, abbandonata, nella parte bassa del paese, lì effettivamente, insomma, non c'era quasi nessuno. Quindi non abbiamo disturbato, non abbiamo disturbato nessuno. Poi se ti sai correre, come ci siamo stati correre noi, cioè riesci a entrare un po' nelle simpatie, non fai l'umore, eravamo in pochi, noi avevamo un altro gruppo che fa casino, che viene lì, che comincia a piantare carrelli, eccetera. Quindi siamo entrati in punta di piedi, con grande discrezione, siamo propensi di fare queste cose senza, insomma, senza grossi problemi. Quanto sono durate le riprese e come sono state realizzate? Ripeto la domanda perché non riesci sempre a dare in conto. Quanto sono durate le riprese e come sono state realizzate? Le riprese sono durate più o meno, siccome io ho un'altra attività che ho provato di vivere. Ho dovuto praticamente girare questo in concomitanza con le vacanze natalizie. Quindi nel periodo in cui posso prendere ferie abbiamo girato nel periodo più o meno 25 giorni, mi sembra di ricordare. Sì, a due settimane, a due settimane, quindi, no, un po' di più, forse 20 giorni, vabbè. E dopo, siccome appunto la gran parte della truppa è dovuta rientrare, perché sono dovute darci una mano anche amici da Roma, eccetera, è dovuta andare via, poi abbiamo proseguito nei ritagli di tempo, sì, nei fine settimana, dilatando questo lavoro fino ad aprile, mi sembra. Quindi qualche fine settimana ci si vedeva in 3-4 persone e abbiamo concluso il film. Poi è stato tutto il discorso del montaggio, ma essendo appunto indipendenti, non avendo fiato sul collo da parte di nessuno, poi ce la siamo presa con la tranquillità che questo tipo di produzione poi vi dà. Cioè, ci sono il pro e il contro in questo genere di logica produttiva. Il film anche, che ho notato, c'è un grande lavoro, sicuramente, negli miei trani di fotografia, anche di attore, però è molto bello anche il lavoro di montaggio, veramente, anche con l'inserzione all'interno di un percorso più lineare. Quanto hai lavorato il montaggio? Come è stata l'esperienza, insomma, che è molto forte, secondo me, da anche un peso specifico. Il montaggio, come dicevo prima, se tu mi dici calcolo al tempo, non lo so, perché prendendoci la concomodo, lavoravo, insomma, quando c'era tempo, in collaborazione con gli altri, quindi quando sarà dovolato il montaggio. Quante versioni? Sì, era partito da una versione da, sentivo adesso qua, perché volevo augurare a tutti un gran caffè prima di vederlo, però la prima versione durava due ore e un quarto, mi sembra. Abbiamo tolto delle scene, perché è praticamente appesantiva, e siamo arrivati all'ora e mezza, qualche mese, insomma, ma proprio lavorando in maniera serena, in maniera tranquilla. Poi qua in sala ci ho venuto a trovare anche Davide Piotto, che è lì, che ha curato il sound design, quindi che ha contribuito a rendere, insomma, spaventose queste noti temporali, questi venti, questi rumori che si sentivano nelle case. c'è anche Edoardo Voivoda, che ha curato gli effetti speciali visivi, insomma, siamo presenti in gran parte di tutti quelli che hanno collaborato alla fine. Per chiudere, per esempio, Daniela, se vuole dire qualcosa insieme al suo lavoro? Sì, diciamo che per me è stato molto interessante, perché seguivo Lorenzo da un po' di anni, avevo visto i suoi vecchi film, e in realtà siamo entrati in contatto quasi per caso, io lo cercavo e poi a fine lui che ha cercato me, è stato un buon caso. Ed è stato interessante più che altro perché è stato il primo lavoro che ho fatto con queste nuove macchine, è stato girato due anni fa innanzitutto, le riprese sono comunque due anni fa, è il primo lavoro che ho fatto con la macchina fotografica, questo è un nuovo mezzo di ripresa incredibile, che è, insomma, lavorandoci molto da anche dei buoni risultati, secondo me. Dicaltro, diciamo che forse è durata molto di più la post-produzione video rispetto alla ripresa, nel senso che tutta la parte di color correction ha portato via forse più tempo addirittura, anche perché anche lì come montaggio ci sono diverse versioni, c'erano anche diverse versioni di core, che in pieno sono state aggiustate. E poi per niente non è proiettato qui, lo schermo grande è comunque molto soddisfatto. Se non ci sono altre domande, ci sono altri... No, notavo solamente, apprezzo l'estrema difficoltà che ha fatto per fare un film, avvalendosi alla fine di un attore, di immagini e musica, e ne ha tratto quello che abbiamo visto. Perché non è facile, voglio dire, con solo... Usando solo... Pochissimi dialoghi, un solo... Basicamente protagonista. La meta di pipotare è riuscire a riempire i vuoti con... Ci si augura la forza dell'immagine e coi rumori, perché con i dialoghi è facile riuscire appunto a tenere l'attenzione, e comunque non annoiare. Il rischio era un po' quello di... Però è plausibile che quando l'attore è solo, perché non volevo da solo nella storia, per scrivere la solitudine, non abbia alcuna possibilità di parlare, se non all'inizio, nel registratore vocale, ma proprio per lavoro, per testimoniare, per archiviare ciò che fa. Una volta che perde questo interesse, è chiaro che non parla più con nessuno, e non avevo anche intenzione di inventarmi nessun tipo di escamotage per fare il classico pallone, come nel film di... Non mi ricordo... Sì, di Cast Away, che hanno... Cioè, lui parlava col pallone, che diventava suo amico, eccetera, quindi non mi interessava. Proprio volevo farlo anche completamente senza dialoghi, vedere se riuscivo a far stare in piedi questa cosa, solo con le immagini, con la musica, con i rumori. Come è plausibile che succeda? Cioè, a me piace un po' il realismo delle paure, nel senso che è plausibile che uno vada nel bosco perché fa un certo genere di mestiere. Cioè, mi seccava di scrivere alla fine la solita storia dei 4-5 ragazzi che si mettono in macchina, non so, e vanno a fare una gita. Quindi, introdurre un mestiere che comunque c'è, già si introduceva alla solitudine in maniera realistica, no? Cioè, questo qua che va in giro, col pragmatismo che lo induce comunque ad andare avanti, a scoprire e non a fermarsi al primo rumore, poi l'abbiamo indotto ad andare fino all'altra parte del film e fino a che scopre il primo elemento, tra cui dovete far normare questo segno di gesso sulla lavagna, che lì lo induce, umanamente è anche credibile, che lo induce a scappare e ad andare via. Poi, dopo, c'è stato il discorso che non trova il campo, proprio per farlo rimanere lì, e basta, insomma, mi riesco a questa cosa qua. Non so se è... Oh, ma... Se posso, questa è stata anche la grande sfida, diciamo che abbiamo avuto partecipando ai vari festival in giro per il mondo, perché di base, secondo me, questo, insomma, ne discutiamo sempre, anche quando ci sono le interviste, il termine horror per definire il genere finisce per essere un pochino riduttivo. e quindi la grande sfida è stata quella di affrontare delle platee molto grandi, dei festival anche molto grandi, che di base si aspettano un certo tipo di film, un film dove si vede molto sangue, dove si vedono molte cose, quindi questo è un film che invece porta l'attesa, porta tutti gli spettatori a desiderare il momento che Marco Marchese... No, Marco, scusi, che muoia, tutti desiderano questo momento, quindi c'è questa attesa continua, che lo trasforma in un film non propriamente horror, forse più vicino al thriller, psicologico, qualcosa del genere. Quindi affrontare un pubblico e vincere anche dei premi, quindi è una grande sfida, io sono molto felice anche di questi risultati, secondo me era una sfida che affrontavano tutti un pochino così tesi e impreparati. Quindi se anche Marco Marchese vuole... se mi dici come è stata questa esperienza, che credo sia stata totalizzata, se non sei... Allora, solo mi faccio una domanda, come non riuscire? La tua esperienza, la tua esperienza nel set. L'esperienza nel set è stata assolutamente coinvolgente, ci ha assaldato, ci ha congelato, quindi... c'è stata una situazione molto dura. Il tutto ha favorito sicuramente un po', credo, l'aspetto attoriale, mi piace a loro recitare, ho fatto da sempre. Sì, scusa. Non troppo, evidentemente. Chiaramente un po' la situazione ha favorito, perché c'erano moltissime situazioni dove l'isolamento, l'angoscia era facile, diciamo, retta, insomma, in termini, ma, insomma, la mia massima esperienza è stata... è stata bella in quanto, sì, sicuramente l'aspetto sovranaturale della natura, l'abbiamo percepito, cioè, un bostro di notte, era qualcosa che, voglio dire, percepivi veramente come ci senti veramente molto vulnerabile. Quindi l'esperienza è stata, ci ha unito, penso, con persone, con amici, con tutto, e dopo, perché ha dato via tutta una serie di... che stiamo vivendo, che, insomma, conferma un po' quello che è il talento, sicuramente, di Lorenzo, della personalità di Daniele, della capacità di... Io ho fatto il mio contributo quando... Sì, 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 chiaramente è stata... è un sogno, diciamo, no? Meno io, chiaramente, tendo a... avere la vita che sto maturato, mi sveglio quando non ci metto a fare, non lo devo fare, continuo, già... è peccato, non lo devo fare. Buonissimo, come rinunce, è stato un buonissimo, è vero, perché effettivamente il freddo che c'era, cioè il bosco di notte, sì, l'abbiamo vissuto veramente, perché si girava fino a ore tardissime, anche fino alle tre di notte, andavamo avanti, in maniera incredibile, così quasi a delle volte si rotevava con una fatica enorme, eravamo tra l'altro alloggiati nella stessa casa dove abbiamo girato gli interni, per riscaldarsi, purtroppo, non c'erano riscaldamenti, si accendevano fuochi con tutti i tempi che ci sono prima di riscaldare le stanze, quindi il freddo pungente che c'era e che Marco ha interpretato, comunque se lo sentiva realmente nella pelle, quando, non so, era a simulare le piogge finte con questi spruzzini, dopo rafforzati dagli effetti visivi di Marco Uivoda, comunque Marco, effettivamente, quando, non so, si sveglia tutto bagnato, era completamente zuppo fino alle mutande, effettivamente era così, Sì, sì, quindi c'è una certa situazione di disagio, di come ne stava il tempo, diciamo, di come ne stava la prima, esatto, sì, 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 e abbiamo risultato, insomma, e ci siamo divertiti a vivere anche così, questo è uno degli aspetti divertenti delle produzioni come questa. Se ci sono altre domande, credo che possiamo concludere, che felicemente il Spazio Italia, che sono queste sezioni che mi hanno dedicato al cinema italiano, ringrazio Lorenzo, ma tutta la produzione, tutti i protagonisti che sono venuti qui a Trieste a partecipare a questa produzione e tutto il pubblico che ha seguito con passione e interesse. Grazie. 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 Grazie.